La riconificazione è spostiva, ma anche per il... Terminati i lavori al nuovo bocciodromo di Pesaro, la struttura sportivo-ricreativa pubblica in via dell'Acquedutto, edificio che si sviluppa, ricorda il sindaco Matteo Ricci, in uno spazio fino ad oggi considerato un retrobottega e che con la nuova struttura potrà finalmente rinascere. Formato da due edifici, il bocciodromo costato al comune 1.700.000 euro sarà destinato in parte alle attività sportive e in parte alle varie attività collaterali. Una struttura che si sviluppa su un unico livello al piano terra ed è divisa in quattro aree, zona gioco di 816 metri quadri per le competizioni sportive, zona atleti di 200 metri quadrati per gli spogliatoi degli atleti, zona ricreativa di 230 metri quadrati con bar e zona polivalente con sala gioco e biliardi. Questo è un intervento che era nel programma di governo del sindaco, ha fortemente voluto l'amministrazione comunale anche per dare una risposta a una disciplina sportiva che ha tanti praticanti. Il vecchio bocciodromo e l'ex Concordia, insomma una struttura ormai ammalorata che andrà alienata, quindi ci permetterà di recuperare le risorse. Questo è un intervento che rientrava all'interno del progetto Bando delle Periferie, che ci ha permesso, grazie alla cifra che il Comune è impegnato per l'realizzazione di questo bocciodromo, di aggiudicarci un bando nazionale molto importante di 11 milioni e 2 che ci porterà a riqualificare tutta questa zona che era una delle zone degradate della città, tant'è che oltre al bocciodromo siamo già partiti con la pista di skate, con il pump track, con l'area camper e i servizi all'interno del bocciodromo saranno decisivi anche per sviluppare le altre attività sportive. Vorrei ricordare che questo è un impianto di Valenza nazionale, quindi un impianto nazionale con quattro piste e ha una struttura tale che potrà essere anche rimodulato e metterci una pavimentazione sopra e potrà diventare anche un impianto per altre discipline sportive, quindi diventa una struttura sportiva, una struttura di servizio e una risposta importante che si vuole dare alla città. Questo è il momento in cui viene ufficializzato alla città, la fase di fine lavori sarà all'inizio della parte di allestimento di tutta l'attività sportiva e della parte del bar, quindi nei prossimi mesi questa qui sarà una struttura che vedrà tante persone e sarà anche la sede del comitato provinciale della FIB e quindi ci sarà la possibilità di ospitare grandi competizioni di carattere nazionale ma anche una collaborazione con le stesse scuole perché vogliamo stimolare, incentivare e far sì che sempre più persone possano giocare a bocce.